Siamo alla vostra rubrica, il ditelo al TGR, vi ricordo buongiornoregione.laccio.it, l'indirizzo email dove inviare le vostre segnalazioni di denunce di stati di disservizio o di degrado dei vostri quartieri o della vostra città. I residenti della zona di Bravetta si sono mobilitati perché nel raggio di un chilometro tra via Isabella d'Este e le vie Limitrofe sono state installate sei antenne per la telefonia mobile. La preoccupazione dei residenti è l'alto livello di inquinamento elettromagnetico in forza della concentrazione di tanti impianti in un solo chilometro. Si sono rivolti poi alla Commissione Sicurezza di Roma Capitale che ha già chiesto al sedicesimo municipio di sospendere l'antenna di via Isabella d'Este. Al momento però ci scrivono i cittadini, non è stata ancora disattivata e attendono quindi rispetto delle garanzie della loro salute.